Il suo primo ruolo con piede Guarda Luca con la mano! Marco! Fai video e foto pure? Eh beh, le foto saranno tipo gli screenshot dei video A me! E' un sacco inquisante questa cosa di filmare E' un sacco inquisante questa cosa di filmare Dai Marco! Mi hanno l'atterraggio Voglio vedere com'è Ma poi ti posso vedere E' un sacco inquisante Che carata allora Ma che dici? No, ma no, se fai video per chi non vuoi fare foto Fai le screenshot E' un sacco inquisante E' un sacco inquisante E' un sacco inquisante No, però ci deve Si ha detto che ti chiama appena arriva Comunque è il ladrano in realtà E' un sacco inquisante E' un sacco inquisante E' un sacco inquisante Vieni qua Luca E' un sacco inquisante Ah infatti no Lui dove va a fare il volo con la GoPro? No, fai gli fare la rovesciata all'indietro Sono l'acqua un po' più alta Ciao Simona Simona sei in onda Oh se lanci un chocco di legna Uno, due, tre No lotta Un minuto Ma qui la posso buttare? Andi a prendere Dai 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 Anche io Ciao Mariano Che occhialini di merda Entra l'acqua Non è vero non entra l'acqua Ce la fa Ciao Le rompe Tanta rimonti Dai ci fai una cosa Per farvi vedere quello che non vediamo noi con gli occhialini Noi vediamo di male con gli occhialini La La Qui 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 come funziona? sto giocando qua dove sta cucina però così non vedo quello che si riprende questo è un incognito non vedi mai quello che si riprende Luca che cosa hai fatto alla pelle? c'è un'allergia che praticamente appena entra in acqua zoom tipo lo zoom di instagram è un po' di formata guarda vedi mettiam la mano a casa tuttavia guarda guarda non c'è guarda è pesante A presto non vuoi farla Non posso, devo aprire per toglierlo, nooo Ecco che li chiamano trabocchi, li devi traboccare nel mare 15 euro per un pezzo di polipo Dai Maria No, io voglio fare la cosa raga Adesso mi ha cercato Luca Cioè, qual è? Cioè, io vedo, ma guarda, vai giù Ma come vedo? Ma hai giocato lì sotto, proprio qui Scusa Mariano Mariano, non ti senti notti, siamo Ahahahahah Allora Ragazzi Allora è quello Via Uno, due Tre' Uno, due Tre' Uno, due 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 No, avete presente le telecamere a 360 gradi? Non volevo camminare, mi sono lanciato, tieni suono L'ho chiusa bene? Forza Via Vai giù, vai giù con la macchinetta che ti faccio Non si vede 1, 2, 3 2, 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 5 6 6 1-2-3 Oh ragazzi! Oh ragazzi! Svato dai! Ok bello! Grazie! Grazie! ecco una l'influencer Simo che anche al mare non si lascia inglorire anzi io ho deciso che anche l'influencer ho deciso di tornare su un'ala logica e di abbandonare per brevi periodi il digitale che al di là del problema di batteria evidente che ha dato che si chiamano un campeggio ci ricorda quella dimensione del qui ed ora più volte richiamata da beniamine grazie